Il futuro è la ferrovia, un motto che è il cuore di Alpino City. Karl Fischer, responsabile di questo progetto europeo, spiega che per mantenere l'equilibrio tra l'economia e il traffico nella regione alpina, il passaggio dalla strada alla ferrovia è fondamentale. Con il cambiamento climatico, l'unica soluzione per ottenere una riduzione dell'80% di CO2 è spostare il traffico dalla strada alla ferrovia. Usare piattaforme come Nikrasa o Vega permette di essere sul treno in tre minuti. Se vogliamo essere competitivi in termini di costi, tempi e qualità, allora dobbiamo lavorare insieme per esserlo. Non dobbiamo solo aspettare i finanziamenti. Bisogna organizzarsi attraverso una migliore comunicazione, attraverso la digitalizzazione. Questi sono punti essenziali. Abbiamo spostato tanto traffico dalla strada alla ferrovia in questi sei anni.